Tre giorni dedicati all'arte contemporanea, un percorso suggestivo che ha coinvolto quasi 30 artisti nella mostra La Dimora dei Sogni, allestita al Castello Svevo di Termoli, spazio a nomi affermati e di esperienza, ma anche a tanti giovani artisti che si affacciano in questo settore e possono condividere idee, tecniche e progetti innovativi. In tanti hanno visitato la collettiva, immergendosi in proposte diversificate nelle forme e negli stili, tra oltre 100 opere presenti e la possibilità di confrontarsi con gli autori. Olio su tela, quadri polimaterici, ritratti, luci e colori, pittura su stampe fotografiche, intarsi o stampa su plexiglass e molto altro. Non mancano le sculture su pietra e altri materiali. Tanti temi, dai paesaggi alle persone, incontri, momenti di vita e proiezioni nell'universo, fino all'astratto e all'immaginario, dando la possibilità di esporre anche ad artisti con disabilità e grande talento creativo. Un progetto riuscito che rappresenta anche un'occasione per valorizzare l'impegno e il lavoro degli artisti, come contributo culturale al territorio, amore per ogni forma espressiva, parte critica a cura di Antonio Narducci e direzione artistica affidata a Gianni Fano. Un percorso di scoperta personale, un invito che si rinnova anche per tanti giovani artisti che vogliono emergere e possono esporre le proprie opere, insieme a chi da anni è inserito in circuiti culturali, nazionali e internazionali.